Ma allora siamo molto, molto, molto forti, sì! Un grande Milan, un Milan stra- snap-diffante, che circa la Bologna, amici rosse o neri, come sto odendo. Una vittoria incredibile oggi contro Bologna non era facile perché dopo il pareggio di settimana scorsa c'era sempre qualcuno. Avevamo gli occhi puntati addosso, il Milan avrà pinto un culo... Che il Milan è sempre lì, sempre lì, ragazzi, anche voi miscredenti, quelli che fanno il tifo per il Milan per ogni volta, non perdono tempo per lamentarsi, siamo sempre lì perché siamo una grande squadra condotta da un grande allenatore, ma soprattutto tu, tu che mi stai guardando ora, che mi hai scritto sotto settimana scorsa nei commenti che io stavo ad annusare le vostre scorreggie dell'Inter, ecco adesso tu ti devi attaccare al mio buco dal culo tutta settimana, perché io ti pianterò talmente tante scorreggie in faccia che ti faccio morire dal puzzo e non solo, ti cago anche in faccia perché io non mi esalto per tre partite in croce, sono felice e il Milan ha vinto, ma è ancora tutto un campionato da scrivere, tutto un campionato da giocare, ci aspettano partite sempre più ostiche, ma questa vittoria vuol dire tanto per noi, è importantissima, arriviamo a sette punti a una settimana che non sarà per nulla facile, né contro il Sassuolo a Sassuolo e né contro l'Inter, il derby in casa nostra, quindi raga festeggiamo con moderazione, sempre forza mila, iscrivetevi al canale, ma soprattutto se anche voi volete stasera scorreggiare in faccia agli interisti, dovete lasciare 200 likes di godimento, 200 likes di godimento, sempre forza mila.